Buonasera e benvenuti. Questo applauso lo continuiamo naturalmente, come giusto che sia, perché adesso ufficialmente si apre questa quattordicesima edizione di Miss e Mister Europa. Demoro Benchetti. René Ricciardi. Oranian Coccio. Oranian Coccio. Oranian Coccio. Oranian Coccio. Gloria Cremonese Nadia Massari, numero 8 Laura Feli, numero 9 Francesca Ruggeri, numero 10 Numero 11, Giorgina Agrescate Numero 12, Sardin Pugliana Numero 13, Valeria Cozzoli L'ora 14 c'è la ventina Zambonna La storia è finita con te Che sei diventata L'ora 14 Cristina Boucher L'ora 14 Annalisa Auriemma Vedere il caruscio numero 17 Brava Filippa numero 18 Almerito Celeste numero 19 La storia è finita con te 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 Concorrente numero 7 Concorrente con te E' finita 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 con te Concorrente con te E' finita con te Concorrente con te E' finita con te E' finita con te E' finita con te Concorrente con te E' finita con te E' finita con te Numero 3 E' finita con te E' finita con te Numero 6 Samantha Samantha E' finita con te Numero 6 Nadia Massari E' finita con te Numero 6 Numero 6 Nero 6 Nero 6 Valentina Zambon Nero 6 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 Nero 6